Buongiorno, oggi è martedì 29 agosto, rassegna stampa in breve di Video33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, intervento di vigili del fuoco questa notte a Merano, in corso libertà intorno alle 1, i gnoti hanno dato fuoco ad una delle campane per la raccolta della carta, fortunatamente nessun'automobile ha subito danni, automobili parchiate nelle vicinanze. In regia abbiamo Massimo Moro, con il suo aiuto andiamo a vedere qual è la situazione questa mattina a Chienes alle 6.30, vedete, guardate che spettacolo, cielo sereno, il sole che sta per sorgere all'orizzonte, il mare di nuvole nel fondo valle. La collaborazione con gli esperti meteo ci permette di dare un'occhiata alla grafica per capire le temperature che ci attendono nella giornata di oggi, 32 gradi a Bolzano, 31 a Merano, 28 a Silandro, 30 a Bressanone, 29 a Brunico, 27 gradi a Vipiteno. Andiamo a vedere quali sono le aperture dei quotidiani locali e nazionali che troviamo oggi in edicola, il Corriere dell'Alto Adige, rifiuti, rivoluzione in centro, raccolta porta a porta, i sacchetti spariranno, la SEABA potrà entrare negli androni, il piano prevede un pass elettronico per gli addetti a presentare le novità, l'assessore competente del comune di Bolzano. Re Laurino, festeggiamenti blindati, misure antiterrorismo, collocate le barriere in via Museo. La cronaca a cura del quotidiano Alto Adige, un delitto pieno di misteri, Bressanone per la morte di Marianne, soccorsi allertati tardi e poi in Trentino volo mortale con la tuta alare, un base jumper australiano è morto lanciandosi dalla cima della Paganella. La cronaca a cura del quotidiano linguatresca Dolomita nelle importanti novità che riguardano il Bauer Bund, si potranno candidare anche coloro che non sono iscritti alla S4P e poi la cronaca che arriva dalla Germania, la terribile cronaca che ha sconvolto e sta sconvolgendo l'intero paese, un infermiere accusato di aver ucciso 84 persone con dosi letali di farmaci, il numero delle vittime sarebbe destinato ad aumentare perché molti sono stati cremati, non ci sono più le prove. La cronaca a cura del quotidiano Tagesszeitung, il tema è quello della gestione dei profughi, gestione dei profughi è un esempio di collaborazione tra il comune e la parrocchia che arriva da Cortaccia. E ancora con la cronaca passiamo a livello nazionale e internazionale, il Corriere della Sera, migranti, militari in campo, Macron dice soldati per le identificazioni in Africa, perfetta l'intesa tra Roma e Tripoli, accordo europeo con Niger e Chad, il premier Gentiloni dice finalmente c'è una strategia chiara. Il sole 24 ore nella manovra, la proroga del super ammortamento, la fiducia delle imprese ai massimi da 10 anni, prende quota l'inserimento nel capitolo industria, pensioni, ipotesi, mini garanzia per i giovani. È tutto, come sempre in chiusura vi ricordo gli appuntamenti da non perdere in provincia di Bolzano con i primi giorni di settembre, il primo di settembre la finalissima del concorso Busoni nel capoluogo Bolzano, il 18 di settembre le settimane musicali meranesi, il 23 di settembre la manifestazione dedicata a coloro che conducono le carrozze, siamo a Razun, Anterselva, anche il 24 di settembre. È tutto, io vi ringrazio come sempre per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33.